Sindaco Antonio Lusani, un nuovo progetto per il cimitero di Francavilla, di cosa si tratta? Si tratta di rinnovare l'intera struttura, di renderla decorosa, di metterla a norma, quindi il nuovo cimitero con questa operazione di project financing non solo verrà ampliato in maniera, diciamo, con un decoro architettonico di alto profilo, ma verranno normalizzate tutte le situazioni che prima, ahimè, non erano troppo normali, ad esempio verrà redatto un catastro cimiteriale, verrà inserito nella struttura una macchinina elettrica per consentire ai meno fortunati di potersi spostare e giungere alla tomba dei prodicari, verrà rinnovato tutto l'impianto, ovviamente questo presuppone qualche leggero incremento di costi riguardo ai servizi, ma io ritengo che sia un sacrificio necessario, dovuto, perché il cimitero deve essere il luogo più decoroso che ha questa città. Sì, quindi un miglioramento dell'impianto esistente, anche considerando il fatto che è un punto in crescita vista anche la grandezza della città. Beh, sì, dopo ci sono anche altre tematiche che si stanno per affrontare, una di queste è quella della cremazione, perché ovviamente ci si è resi conto, anche il legislatore si è reso conto col passare degli anni che non si può continuare a occupare terreno per questo motivo, ci sono nuove dinamiche, le concessioni attualmente come previsto dalla legge sono trentennali, prima duravano addirittura 99 anni, ci sono una serie di dinamiche che si sviluppano, però ecco noi ci teniamo a sviluppare il cimitero nel migliore dei modi. Poi, con questa piccola campagna di soddisfazione che verrà lanciata dalla ditta, verrà chiesto ai cittadini anche di individuare il nuovo nome del cimitero di Francavilla al mare. Offriamo tre opzioni, che sono quelle del cimitero di Sant'Egidio, perché presso la nostra struttura c'è una chiesetta dedicata a Sant'Egidio, il cimitero di San Franco, perché San Franco è il nostro patrolo, e il cimitero a terza scelta, il cimitero del Santissimo Sacramento, perché all'interno della struttura cimiteriale c'è la congregazione del Santissimo Sacramento, ormai da più di un secolo, penso. Grazie mille. Franco De Francesco, della De Francesco Costruzioni, un nuovo progetto per il cimitero di Francavilla al mare, come si articola? Sì, buongiorno. Allora il discorso del nuovo cimitero di Francavilla è quello di fare un cimitero che sia di riferimento a quello che già esiste nei paesi del nord Europa, dove chi viene a visitare il defunto oppure nelle situazioni in cui c'è il trapasso sia meno traumatico e più sereno possibile. Per questo ci saranno tutte le situazioni di investimento in cui sono basate sul bello e sull'efficienza. Il bello viene realizzato adeguando le strutture, con i fiori e tutta una serie di iniziative. Con l'efficienza mettendo macchinette elettriche, personale qualificato, che fa sì che la sofferenza sia alleviata dall'estetica e dall'efficienza del cimitero. Sì, quindi si tratta di un intervento di tipo materiale ma anche di tipo culturale? Certo, certo, perché il discorso di effettuare un cimitero con lo stile del nord è quello di ricordare, venire al cimitero ricordando gli affetti dei propri cari senza che ci sia una sofferenza e con una serenità maggiore rispetto alle altre situazioni del cimitero. Grazie mille.